O stazione 6, tutto ok? Gli steward anti-assembramento sono posizionati sul lungomare di Radispoli con il compito di controllare a vista la spiaggia e contingentare gli arrivi. Nel mentre gli stabilimenti aperti e bagnanti iniziano a vivere una stagione si spera positiva. Distanziamenti, nuove regole da rispettare e una grande voglia di ricominciare. Le difficoltà che stiamo attraversando sono molte, però ci aspettiamo in una risposta da parte della clientela, magari con nazionali che investano nel turismo locale anziché pensare a mete più lontane. Quindi siamo una categoria che sta attraversando le sue difficoltà e confidiamo nel popolo italiano. Sarà un weekend lungo quello che ci si appresta a vivere con la festa del 2 giugno e le prenotazioni sembrano essere in linea con la scorsa estate. Abbiamo aumentato il materiale sotto gli ombrelloni, abbiamo messo due lettine e una sdraia, visto che ci sono 10 metri riservati a ogni abbonato, in più abbiamo previsto una fascia di rispetto di un metro tutto intorno all'ombrellone in modo che il cliente si può muovere in tutte le direzioni. Siamo abbastanza fiduciosi, visto che tante persone non possono andare in ferie all'estero o in altre regioni, stando vicino Roma pensiamo che ci avremo un grande afflusso. Diciamo che questa è la prova del 9, c'è un ponte lungo quindi diciamo che questo fine settimana vediamo un po' come vanno le cose. Da qui trarremo le conseguenze, sperando bene che comunque sia finisca questa situazione e si riprenda la vita, si ritorni alla normalità diciamo.